Per la prima volta non sarò presente alla conferenza annuale di Topics, né come relatore né come spettatore, mi dispiace molto ma ha un impegno di lavoro, mi porta in questo momento a essere a Roma, però in qualche maniera gli amici di Topics hanno cercato di rendermi presente lo stesso, per cui anche quest'anno dovete assorbirvi 5-6 minuti delle cose che dico. Regione Piemonte è stata la prima amministrazione italiana ad aver implementato un modello open data in Italia, ovvero ad aver messo a disposizione il patrimonio informativo pubblico a chiunque perché potesse riutilizzarlo. Come è stato possibile realizzare questo progetto, di che cosa si tratta in realtà e quali sono state le motivazioni che hanno portato l'amministrazione ad aprire il primo portale open data in Italia? Siamo partiti dal convincimento che i dati pubblici abbiano un grandissimo valore economico, per cui abbiamo per prima cosa pensato di essere un'amministrazione che poteva, attraverso la messa a disposizione dei dati pubblici, perseguire lo sviluppo economico della regione. Insieme allo sviluppo economico poi seguono anche lo sviluppo sociale e lo sviluppo culturale. Abbiamo pensato di farlo in una maniera molto smart, molto veloce. Abbiamo fatto attenzione a operare fin da subito in beta, per cui avendo sia il sito, sia tutte le componenti a questo correlato, ma anche il metodo di lavoro, le licenze d'uso, pronte e disponibili fin da subito con la consapevolezza che qualcosa poteva anche probabilmente non funzionare benissimo. Potevamo anche commettere degli errori, però lavorando in maniera snelle e veloce era più facile a questo punto poter correggere gli errori in corsa, piuttosto che aspettare i tempi lunghissimi di un progetto che probabilmente, se pianificato secondo logica e tradizionale, avrebbe dato i suoi esiti sull'asse degli anni, non dei mesi o delle settimane. L'ambizione è quella di dare un sostegno allo sviluppo economico, dare ai giovani, alle imprese, a chi intende creare una catena di valore sui dati pubblici, l'opportunità di farlo veramente. Per noi il dato è soprattutto in questo momento qualcosa di assimilabile a una risorsa rinnovabile come l'energia del sol, per cui è una cosa che viene messa a disposizione in maniera neutrale e precompetitiva a chiunque abbia delle idee e attraverso queste idee voglia fare impresa, voglia offrire servizi di nuova generazione o servizi tradizionali attraverso le tecnologie. I futuri sviluppi sono ampliare il numero di dataset andando a condividere con gli utilizzatori, cioè con le imprese o con le persone che pensano di poter generare valore attraverso i dati, quelle che sono le priorità. Noi in questo momento siamo arrivati a circa 150 dataset, è possibile che alcuni di questi non vengano considerati di valore, per cui non vengano utilizzati, per cui questo rimane comunque un'operazione di trasparenza ma che non crea una catena di valore. Siccome noi riteniamo che il dato pubblico serva soprattutto in un momento anche di difficoltà del paese come questo, per creare valore, per creare impresa, per creare occupazione, vorremmo dare priorità ai dataset che hanno un valore economico e vorremmo condividere con gli utilizzatori e con le imprese questo. Per cui sicuramente i prossimi passi sono parlare con gli imprenditori, parlare con le imprese e cercare di capire cosa vogliono, che al momento attuale non è ancora disponibile e accelerare su quei dataset. In questo contesto Open Data è sicuramente un elemento importante che però va messo in prospettiva all'interno della generale aumento di dati che Internet e che le tecnologie digitali hanno portato nel nostro mondo, nella nostra società. Pensiamo a quello che vengono definiti information shadow, cioè le ombre di informazione che ogni giorno noi usando un bankomat, passando con la macchina su un telepass, inviando una mail, lasciamo nella rete un'enorme quantità di informazioni che possono essere sicuramente utilizzate per comprendere meglio come funzionano i sistemi. Come vedi che la pubblica amministrazione, soprattutto una pubblica amministrazione innovativa, possa far buon uso di questi dati? Io penso che noi non dobbiamo avere paura di Internet, non dobbiamo avere paura della rete, non dobbiamo avere paura del fatto che la rete sia popolata di dati e di informazioni, così come non dobbiamo avere paura per definizione di un coltello. Un coltello può servire per tagliare il pane o può servire per uccidere una persona. Il buon uso della rete, di Internet e dei dati, ovviamente può essere in qualche maniera aiutato da delle istituzioni. La pubblica amministrazione che condivido con te in questo momento deve asseguire un ruolo di certificazione della bontà del dato, di certificazione del servizio, senza essere necessariamente direttamente lei a essere il gestore del dato e del servizio. Io vedo una pubblica amministrazione più snella, una pubblica amministrazione molto intelligente, che è in grado di garantire ai cittadini, alle imprese, allo stesso ambiente della pubblica amministrazione, che ci sono delle aree della rete che sono pregiate e lasciare poi al giudizio dell'individuo e del singolo quelle che sono le aree della rete che presentano servizi, piuttosto che dati che non sono attendibili, e lasciare che queste muoiano per morte naturale. In questo momento occorre essere di esempio quando si fanno delle cose fatte bene, ma occorre altrettanto essere di esempio quando si commettono degli errori. La cosa più brutta, la cosa più terribile, la cosa più inutile, lo spreco maggiore in questo momento è ripetere errori che altri hanno fatto semplicemente perché gli errori sono stati nascosti come la polvere sotto il tappeto e non vengono messi a fattore comune. Molte delle cose che noi abbiamo fatto, è vero, hanno avuto una componente di coraggio, ma mai di incoscienza. Non abbiamo pubblicato dei dataset con dei dati sensibili, non abbiamo portato le imprese a percorrere delle strade che ne hanno portato al fallimento. Abbiamo innestato, tutte le volte, innescato meccanismi che portavano innovazione avendo consapevolezza e certezza che stavano andando in una strada che era praticabile. Noi abbiamo creato un ambiente dinamico di business e abbiamo messo a disposizione infrastrutture e asset in maniera precompetitiva alle imprese perché operassero meglio e fossero competitive. Perché, ripeto, sbagliare non è peccato. Sbagliare accade soltanto a chi fa delle cose e chi lavora nell'innovazione spesso commette degli errori. Non bisogna essere degli incoscienti, bisogna cercare di lavorare sempre con serietà, con la massima attenzione, però alla fine i risultati che noi abbiamo ottenuto mi fanno pensare che siamo un modello che può essere in qualche maniera visto con attenzione da altri e se ne hanno piacere essere il prodotto copiato anche con il nostro aiuto perché noi siamo disponibili ad aiutare chiunque voglia capire come abbiamo fatto alcune cose. Così come io ogni giorno sono attento a guardarmi intorno e a capire cosa stanno facendo altri meglio di me, meglio di noi per andare a capire, parlare, copiare e condividere. A Barcellona da qualche parte c'è scritto per cortesia mentre state dicendo che non si può fare lasciatecelo fare. A Barcellona da qualche parte c'è scritto